Il passaggio è stretto, può portare solo una pistola e una granata e quando percorrerà gli ultimi metri le tenga davanti a lei. Devo fare una chiamata. Sarà una cosa breve e naturalmente di questo non dirò nulla. D'accordo. Kenji. Ciao, amore. Devi venire via da lì perché i postelloni di lancio si apriranno a... Vic, se ti dispiace ascoltarmi un instante. Salirai su un'auto e ti allontanerai da quel posto il più in fretta possibile perché... Vic, basta, basta, amore. Ti prego, stai chietto almeno una volta nella vita. So cosa succederà. Ok, allora che cosa aspetti? Vieni via. Mi dispiace. Che vuol dire mi dispiace? Che posso impedire tutto questo. Posso impedire che muoiano tante persone. Devo farlo. Se tu sei in grado di farlo, ma anche qualcun altro lo è. Quindi non... Siamo da morire. Aspetta, ti amo anch'io. Non è questo il punto. Dix, sapete che ti amerò per sempre. Kelsey, Kelsey, Kelsey! товo... Grazie a tutti.